buongiorno a tutti oggi è martedì 4 ottobre sono le 9 39 caspita che bella apertura un bel gap up di fuga di quelli decisamente interessanti che crea quasi un island reversal wow cosa abbiamo fatto noi ieri ieri siamo stati tratti in inganno da questa candelina qua perché ci eravamo messi short pensando che il secondo ti meno tre fosse partito da qui purtroppo non era partito da qui e abbiamo comunque deciso di mantenere la posizione quando siamo andati in violazione di questo massimo siamo andati a eggiarla con che cosa con un long in modo da non perdere troppo a quel punto poi lo abbiamo chiuso in giornata però oggi la posizione short è decisamente in sofferenza questo però è un problema oppure per un gruppo di trader che sanno lavorare come professionisti è un'opportunità perché ciò che per gli altri è un problema per noi è sempre un'opportunità di comprendere se stiamo utilizzando le size giuste stiamo facendo trading secondo le regole sappiamo che possiamo muoverci anche nel medio periodo oppure solo nel breve perché se sappiamo che abbiamo poche cartucce quando si va a eggiare una posizione non si eggia si chiude si fa un reverse si va long invece che short si chiude la posizione per cui purtroppo capita che si impari perdendo soldi in questo momento chi invece ha lavorato bene si è in sofferenza con una posizione ma sa che può entrare con un secondo con un terzo chip e tutto quello che volete oltretutto chi lavora bene ascolta le analisi del weekend analisi del weekend che dicevano attenzione perché qui può partire anche oltre un settimanale un t più uno ti un t più uno e quindi guardate che roba ancora una volta la freccetta gialla arancione era corretta salita e tra un po riprenderemo a scendere vogliamo quantificare altra un po siamo su di nuovo un mensile che è arrivato messi l'inverso che arrivato a 35 barre sui media 32 quindi già superata la durata media e al massimo 43 barre quindi massimo si sale per otto giorni ma si può salire su questo ti inverso per otto giorni assolutamente no ma proprio no perché perché se la centratura è 10 più per ora 6 la peggiore che possiamo andare a prendere al massimo si sale per 5 giorni che 40 giorni complessivi di un mensile altrimenti che cosa abbiamo già con sei giorni di inverso la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura ampiamente la chiusura ampiamente non soltanto sufficiente di che cosa proprio di questo mensile inverso che è arrivato a 35 barre che ha un ciclo un sottociclo ribassista di verso vero che sale che lo porta in chiusura perché tutte le volte che vedo un rialzo molto forte come candele con candele come queste mi chiedo a differenza di chi dice wow per quanto salirà per quanto rimbalzeremo io mi chiedo cosa ha chiuso l'inverso cosa sta chiudendo l'inverso perché per ora tutta la centratura è corretta e quindi vediamo che cosa succederà nel proseguo perché dopo rimbalzo arrivato è previsto nell'analisi del weekend seguirà questo da questa candele in avanti ovvero quando avrò voglia di chiudere il nostro quinto t meno 3 inverso eccolo qua siamo a 37 anche 38 barre partirà al sesto potrà in giornata andare eventualmente già a chiudere con un top superiore a quello da cui partirà che non so se questo ma un top dal quale partirà se ci andrà sopra avremo la condizione necessaria e sufficiente anche in questo caso se non c'è una scansione temporale differente dall'attuale per andare a chiudere il t inverso e con esso abbondantemente anche la condizione necessaria sufficiente per chiudere che cosa proprio questo mensile inverso che ci porterà a far partire quanto prima speriamo ma la speranza non serve per fare trading un nuovo mensile inverso con altra spinta a ribasso questo è il programma per oggi 1 andare a rivedere se c'è una centratura differente se può esserci una centratura differente rispetto a queste che per cui il sesto t meno 3 inverso sia partito non da qui che capisco la tendenza rialzista ma sono troppe poche candele l'ho lasciato qui soltanto per avere già l'immagine scritta nel frattempo a un certo punto bisognerà peraltro di indice che fare che cosa se qui non ha chiuso a 23 barre non è bellissimo o qui non ha chiuso il secondo t meno 3 non chiudendo peraltro un t meno 2 1 e 2 e andrà a chiudere da adesso in avanti con discesa o appunto secondo t meno 3 oppure se andrà un tre tempi 1 2 2 3 che andrà a chiudere probabilmente anche che potrà avrà la facoltà di andare a chiudere che cosa un t meno 1 lato indice con discesa qui attenzione solo che siamo siamo per andare in golden cross quindi ecco in caso di altro vincolo mi rieggerò long e mi preparerò altri chip per andare short anche perché siamo soltanto al primo ok in un'operazione di medio si può anche di meglio termine si rischia anche di poter dover inserire il terzo ma io attendere un attimo di vedere che cosa sta per succedere parliamo di dax sul dax a parte questo discorso che avevo già fatto nel weekend o ieri e su cui non tornerò la questione è molto simile solo come tempo e siamo molto più avanti qui siamo alla quasi quarantesima barra di un ottavo di meno 3 non siamo al quinto per cui a facoltà sempre di arrivare all'undicesimo quindi 3 siamo siamo per andare in golden cross ma in questo caso anche qui abbiamo avuto una chiusura degnea di questo nome per un t meno 2 questo o andremo a farla con una discesa anche per un t meno 1 perché il discorso è molto simile anche in questo caso il grafico identico qui volevo soltanto lasciare a monitor una cosa molto importante un ragionamento che abbiamo fatto ieri nel gruppo premium che veramente fondamentale perché la cosa bella è quando si forma un gruppo di persone che fa dei ragionamenti che permettono di andare oltre ragionamenti che già si fanno in modo da migliorare le proprie prestazioni qui manca la candela di oggi ovviamente ecco la cosa bella è proprio quella e sapete cosa adesso andrò a controllarmi dove passa lo swing per la partenza di un nuovo t più 2 perché quello per la partenza di un nuovo t più 1 è già stato superato e quindi confermiamo l'analisi del weekend vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia sarà intensa ma lo sarà sicuramente perché ho già deciso così e voi ve la meritate una splendida giornata? arrivederci